Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Partiamo dalla ricetta di pancake. Io ho messo 150 grammi di farina nella mia carne integrale che assorbe più acqua, quindi anche le dosi del latte eccetera vanno leggermente in base alla farina più o meno la fine. Poi metto 150 grammi di latte d'aleno, metto un cucchiaio di burro di mele. Il burro di mele non è altro che, questo è fatto in casa, non è altro che mele cotte come se fossero una marmellata, quindi stracotte. Potete aggiungere limone e zucchero, questo invece è senza niente, solo mele. Un cucchiaio di olio di semi, questo è una arachidi. Oppure un cucchiaio anche di olio di cocco, è indifferente. E poi mescolo il tutto. Mescolo, 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 mescolo. Appunto, come vedete, il composto è ancora troppo denso, quindi aggiungo del latte. Dovete andare un po' dolento. Se volete rendere l'impasto leggermente più leggero potete sostituire un po' di grammi di latte con dell'acqua. Inseriamo mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. In alternativa potete anche usare un cucchiaino di lievito per dolci, però così risparmete tantissimo. E poi un cucchiaino di aceto di mele. L'aceto più il bicarbonato reagiranno producendo gas che farà da lievito istantaneo, ovviamente. E intanto appunto dopo vi faccio un po' vedere la consistenza del tutto. Quindi poi prendiamo una padella, deve essere bella calda, e versiamo il nostro composto. Comincerò a fare delle bollicine in superficie, questo non le fa neanche troppo. Vedrete che è conto, dal fatto che la parte sotto si scurirà, le parti laterali si scuriranno e sembreranno appunto più cotte. A quel punto controllate sotto e girate. Quando girate basta veramente poco, una ventina di secondi, ed è fatto. Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi facciamo un video eating. Ho preparato questi pancake, che sono parecchi, da mangiare con un po' di cioccolata, un po' di fichi, un po' di tutto. E questa per me è una colazione, anche se sono alle 11 e mezza di mattina. Quindi, tisana. Non mi sono svegliata alle 11 e mezza di volta, però ho dovuto preparare tutto, andare a fare la spesa, quindi la fine. Come tisana, uso questa. Buon tisana del buongiorno, qui si trova al Tem, che penso sia anche in Italia da qualche parte, ma me li ha portati una mia amica dall'Austria. Questa tisana costa veramente una cavolata, ma è buonissima. Questa tisana costa veramente un po' di cose, che si trova sempre è. Questa tisana costa il buongiorno. Questa tisana costa di mattina. teniamo in infusione per un po' ho dei fichi ho del burro di nozzone fatto in casa ho della marmellata di albicocche e ho della cioccolata fusa cominciamo con la cioccolata la spalmo un po' questo primo pancake nella prima parte di questo video vi ho fatto vedere come li ho preparati penso purtroppo però di aver perso gran parte dell'audio ho un patato di scotte io quando mando la cioccolata mi sporco ovunque bene quindi cominciamo a parlare di serie tv intanto li mangiamo non so se volete mangiate con me e se rifate questa ricetta di pancake tagcatemi su instagram mi farebbe molto piacere perché sono veramente buoni e non ci sono so che riaggiunti quindi ancora più sani diciamo così diciamo che se ho bisogno di uno snack goloso e dolce di solito mi faccio questi perché sono una cosa un po' più sana da fare anche un po' più veloce a me è ultimamente piacciono davvero tante not sounds quindi voglio fare eating sounds scusate ok e allora dirvi dovete sapere che tutte la mia merenda preferita la mia merenda la mia colazione preferita del momento è fichi e burro di nocciole con li metto su un pane integrale che che congelo poi scongelare nel fornetto il burro di nocciole è questo ve lo faccio vedere ok e sono bellissimo ne metto giusto un pochino lo spanno qui dove ci sono i fichi e tecnicamente una colazione con pane integrale io ho quello di farro tra l'altro è un frutto è un burro di di frutta semica è una colazione è una colazione completa con tutti i nutrienti abbiamo fibro abbiamo proteine abbiamo vitamine tutto e assaggiamo non preferisco il cioccolato ed è il cioccolato veramente l'adoro quindi per i fichi ho trovato un albero vicino a casa mia che ne ha tantissimi nessuno li prende e purtroppo stanno finendo in questo periodo mi dispiace perché per due mesi ho fatto congelare con i fichi quindi sarei più del periodo ve ne cito alcune perché le più importanti le più carine quelle che mi sono piaciuta di più parto da quella che sto vedendo ora che è Baby non l'avevo mai vista anche se penso ci sia ormai da tre anni su Netflix e per chi non lo sapesse è una serie tv italiana tra l'altro che va tantissimo anche all'estero quindi sono molto contenta che parla assomiglia leggermente ai lit come concetto parla di ragazzi di adolescenti ricchi che abitano ricchi di Roma che vanno a scuola privata e hanno insomma questa vita alla facciata perfetta e poi tutte le cose cercano sempre di andare all'intento e tutto e lì mi piace molto come sei quindi ho provato a calare anche quella che Sì e metto questa marmellata di alpicocca che mi piace tantissimo ed è questa, penso sia, si chiama Al, no forse Alpicocca comunque, di che marca è? della marca Alpe Pragas e ha come ingredienti alpicocca 75%, poi zucchero, succo di limone, gelificante, pettina e a volte trovi delle marmellate che hanno come dire che dentro zucchero, per me potrebbe esserci anche molto meno zucchero, però così è beh, devo dire che è proprio buona e ve la consiglio, io non la trovo al supermercato, o la trovate in Trentino, o la trovate magari nei negozi che vengono chisane e queste cose qui visto che riuscirò a parlare solo di un'altra serie tv, vi dico quale serie tv ho visto in questo periodo, vabbè, questo è un buon video così era 20 minuti che mi abbaiava davanti alla porta, quindi sul punto, vabbè, va bene, sul corpo ne do un pezzo di pancake che vedo sono senza zucchero altra I'm out, sounds pretty easy Poi posto Dai calma Isi dai calma? E' un cane molesto quando vuole E comunque un'altra serie di voti Di cui invece sicuramente non vi ho parlato E' Lost Lost E' una serie tv Che si trova su Prime E' un cult E' del 2004 E parla di questi Sopravvissuti A un incidente aereo che Erano su un'isola Sperduta Vicino all'Australia Vicino alle Fiji Che poi in realtà sono le Hawaii Abbiamo dato le Hawaii Comunque E su quest'isola scoprono di non essere da soli Succedono avvenimenti strani Ma insomma Non vi voglio spoilerare di niente Comunque Mi ha fatto piangere tantissimo Una certa scena Non è fondamentalmente il mio genere Però Mi sono sempre detta Prima o poi guarderò Lost Prima o poi guarderò Lost Prima o poi guarderò Prima o poi lo guarderò E quindi ho deciso di guardarlo Visto che ho visto che era Basta Su Prime Sei molesta? Non so È veramente un caldo Va guardato Prima o poi È lungo Ci ho messo un sacco di tempo Però Ci sta tanto Guardatelo magari con calma La sera una puntata Non c'è fretta E E poi Ah Poi dai Ci inserisco anche Emily in Paris Carino Lei è bellissima Lily Collins Per me è bellissima E carino Nulla di Che Però Diciamo che Tiene Compagnia Ecco E Magari lo guardo Mentre Mentre faccio qualcosa Nel computer Che non mi richiede l'audio O Metto a posto Cosa significa Quindi Andiamo all'ultimo pesitino Alla sveva Qui che tanto Bello Ma Avete visto? Stai calma Stai calma Stai calma Insolenta Insolenta Beh 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 Oh io Io quindi Penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio Buona 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 Buonanotte mi si è scaricata la macchina fotografica quindi la facciamo al buio ho la sveva che sta cercando di raggiungere il cibo buonanotte, sogni d'oro good night, sweet dreams buona snow, just all the swings buon night come la fete, buon rêve si, guardo good night in un sound della sveva buonanotte, miei pasticcini, buonanotte, miei pancake al burro di mela e mando un bacione mangi un bacino, mangi un bacino che li spera che si, guardo un bacino Grazie.